Finalmente una strada fuori mano è un bar, sono tutto sudato mi conviene entrare Ma sai una cosa che è agitato oggi, che è la prima gara della stagione, è agitato? Capita sai, quando uno fa bene ha voglia di fare, è serio dai diciamo anche se Sono serio, è agitato perché ci tiene a fare bene il suo lavoro Bene oggi lo seguiamo al rifornimento noi No? Al rifornimento stiamo Sì ma oggi è là nei primi, te l'ha la volata Il treno? Grazie Zazafri, complimenti, grazie Una busta dopo, una busta dopo